Salve gente, sono Larus, eccomi qui su Rom2 Total War con i nostri ateliesi mi rendo conto che è passato un po' di tempo dall'uscita dell'ultima puntata di Rom2 però ho avuto un po' di problemi innanzitutto con Crusader's Kings 2 perchè in teoria oggi ci doveva essere Crusader's Kings non Rom2 però intanto cerco di risolvere i problemi e intanto registro Rom2 poi per l'altro fatto è che volevo anche aspettare un po' la patch 3 di Rom... si la patch 3 che migliora un casino questo gioco che migliora tutto la patch, bellissimo tanto col nostro esercito pieno di picchieri lo mandiamo qui perchè volevo attaccare sia da nord sia da sud tanto a tua comando l'esercito che non c'è da moltissimo l'ho preso da poco metterò a farmi un... picchiere ne ho fatti un po' allora faccio un picchiere e due arcieri posso farne tre? via e del resto le altre mie unità tipo avevo... mi mancano gli agenti ne mancano, si ok... vabbè vabbè non importa intanto da qualche parte devo costruire qualcosa cosa... qui un tempio di Zeus la rissa facciamoli un... un altare di Ares e qui invece sempre con questa unità la paura di Deimios lo farò un po' di cavalleria cittadina che non è tutto sto che la cavalleria cittadina però comunque ci dà un buon vantaggio tattico contro gli spartani ricordo che sono in guerra aperta con gli spartani siamo in una guerra bella tosta perché gli spartani non demordano sono forti c'è da dirlo sono veramente forti però gli abbiamo fatto il culo all'assedio di Atene che loro ci hanno attaccati io faccio l'offere di pace solo da una posizione di potenza per offrire pace altrimenti è semplice cowardice cioè posizione di vantaggio cioè di vantaggio contro i me io contro l'Atene Knosso tutta la Macedonia quasi tutta la traccia cosa farà adesso spartano sperando che non si sia bloccato ovviamente ovviamente ah ecco non si è bloccato questi qui non me li aspettavo infatti mi ritirerò in città vabbè ce le siamo un po' prese no ci sono solo ritirati però stavo reclutando dai ci sta tanto se mi volevo attaccare devo per forza passare per Atene e mi sa che con l'esercito del genere non potevano conquistare Atene anche se ci sono le mie guarnigioni dentro comunque guardate le mie rotte commerciali dove vanno vanno dappertutto belle si già che commercio anche con Rodi commercio un po' con tutti mi pare solo i romani che non commerciano con me ah tentativi di sovversione militare gente di incognita scoperto boh mettiamo le unità in marcia normale devo contro gli eraclidi e facciamo la nostra prima battaglia della giornata la furia di Atene contro gli eraclidi bene dovrei vincere non ci dovrebbero essere troppi problemi però vediamo io ho tantissimi picchieri in questo esercito perché adesso che posso costruire i picchieri io ne costruisco che sono potentissimi picchieri se li avete sfruttati veramente bene poi ho anche tanto tiro quindi non dovrei nemmeno avere troppi svantaggi a stare nella difesa c'ho degli opliti per fare delle manovre veloci e la cavalleria anche per fare le manovre veloci la mappa sembra un po' a discesa però non mi preoccupa troppo non dovrebbe essere troppo in discesa non troppissimo forse non si nota nemmeno spesso queste mappe qui sono disegnate un po' col culo ho notato intanto però io vedo dalla parte loro dei peltasti sono peltasti quelli come sono poi vedo anche degli spartani reali sembrano che serve l'unità del generale gli spartani reali sono oddio sono potentissimi non quanto gli eroi di sparta gli eroi di sparta sono l'unità più potente al gioco infatti di lancia però sono comunque buoni ah no non c'è tutta sta discesa visto l'el nei picchieri ne ho tanti ne ho tantissimi picchieri non so ho la visione un po' messa male ah ok adesso si è messa tutta a posto ok picchieri oh si una falange a quattro si dietro metto arcieri tanti fine dietro metto gli apliti poi il generale ok cavalleria cittadina la metto qua giù ah già si me l'ho dimenticato bene bene ok metto qua i picchieri perché c'è un bug qui nella formazione dei picchieri che è abbastanza fastidioso se tu metti i picchieri in modalità falange e metti lì in gruppo è molto difficile rispostarli perché praticamente si sono preimpostati come formazione serrata e quindi ti viene tutto un po' messo male quindi adesso faccio che togliere la formazione di picchieri e di rifarmela tutta non ci ho messo tantissimo però comunque un problema soprattutto se ti dimentichi queste cose qui durante certe battaglie spesso online te le prendi tanto perché rompere una formazione soprattutto con unità come i picchieri è terribile terribile ah comunque un africam nel caso se tipo adesso posso andare sotto terra con quest'africam qui se non mi ricordo come ho fatto mi pare che bisognava andare nei file ini del gioco nel data file e modificare un file tipo mettere debug camera da 2 a 1 credo da 1 a 2 non mi ricordo proprio comunque nulla di che nulla di difficile mi pare che potete anche trovare dei download online da qualche parte comunque stesso metodo che fanno più o meno da sempre più che altro è utile per vedere la battaglia da tanto in alto oppure anche avvicinarsi di tanto perché mi pare che normalmente non ti potresti abbassare più di così invece così ti puoi abbassare fino ai piedi ed è anche molto figo per fare tipo cose cinematiche tipo questa guardate che figli ok eccoli qui gli spartani quindi muoviamoci qua sulla collina questi qua sono tasti per i eci nulla di troppo difficile ah guarda i cerbiatti dai seguite i cerbiatti soldati guarda il cervo qui qui il cerbiatto qui il cerbiatto guarda che belli però buo i cerbiatti si mischiano con la mia formazione comunque rimettiamoci in posizione soldati infatti è anche un po' stancare in teoria quindi direi di farli camminare un attimo ok intanto continuiamo ad andare avanti questi qua sono ah già perché oltretutto nella nuova patch hanno messo che le unità si stancano di più correndo ed un po' realistico perché se no praticamente potevi anche correre in giro per tutta la mappa non si stancavano mai si stancavano solo tanto 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 al combattimento e questo è ovviamente plausibile continuiamo a muoverci davanti ok intanto vogliono puntare sulla mia cavalleria non so perché mi sta comunque dando le spalle io dico va bene dammi le spalle pure è un problema io non mi offendo tranquillo intanto qui vuole ingaggiarmi il mondo oh oggi mi sono dimenticato dai falange falange in fretta si ce l'ho fatta boh tenete la falange soldatini tanto al lato mettiamo i picchieri e aspettiamo che si faccia tutta la formazione diamo regolarità eh ok oh sono vicinissimo mi sono dimenticato già visti qui via 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 qualcuno me l'hanno preso non è un problema per me però mi dispiace comunque tanto qui direi di fare una manovra di aggiramento con il resto di questa unità mettermi davanti qui però sempre camminando qua abbiamo quasi vinto ah intanto la cavalleria la facciola scappare via lontanissimo oh qui abbiamo vinto abbastanza ok intanto col generale andiamo a picchiare un po' questi arcieri molto bene dai con il resto i picchieri c'è una formazione qui togliendo ovviamente la picca dobbiamo imparare un po' utilizzare i picchieri non li ho mai utilizzati io ci ho utilizzati pochissimo non tanto facciamo fare i peltasti per gli ecchi che fanno un po' male a distanza come tutti i peltasti ora facciamo una carica devastante che solo i lancieri peus possono fare forse forse anche adesso ci penso un po' i come si chiamano i catafratti i catafratti sono i catafratti però ho una carica catafratti però bene tutti quanti qui davanti vedetevi in formazione ok vediamo un po' guarda che bella però la falange a me piace troppo fermate il fuoco per quelli dietro guardate come muoiono contro la mia falange intanto la cavalleria la voglio anche impotizzare contro questi uomini in ritirata ok tutti ormai stanno morendo molto bene stanno perdendo cioè che ste falange qui beh sono toste proprio vedo sempre un line che li utilizzavano spesso però sono veramente forti l'unica cosa è che sono veramente poco mobili però se le si utilizzate bene fanno veramente malissimo ah si tutti picchieri se volete andate qui ah no tutti quanti ecco aspetta aspetta bene bene tanto qui li stiamo un po' il generale nemico ah il generale nemico è morto molto bene tanto con i lanciari i peus andiamo di nuovo in carico contro il generale molto bene abbiamo vinto non non una battaglia troppo difficile perché avevamo le falange però tipo contro gli spartani se avevamo gli opliti ce le prendevamo di santa ragione va veramente tanto va bene tanto devo contro gli spartani reali che guardate come sono forti cioè sono belli però gli spartani reali sono tostissimi oltretutto però stanno arrivando i mei feus ci devo un po' sbrigare boh intanto faccio anche il grido di guerra ah muovetevi non stanno correndo dai muovetevi anche voi cavalieri e i cittadini muovetevi un po' aspettate 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 guardate la carica cavallieri cittadini mettiamoli un attimo qui dietro voi muovetevi un po' più veloce è che ci siete quasi guardate i mei lanci di peus sono anche aumentati di grado che bello di seguire gli uomini in battagli guarda guarda ha tirato un calcio il cavallo sembra che ha tirato un calcio so se poi veramente ha tirato un calcio però intanto vediamo questo qua che fine fa tono migliore animazione della cavalleria però sempre sui total war bellissimo che carino che è però guardate questo qua è l'ultimo spartano forse il penultimo è morto in qualche modo non so però bene bella battaglia GG facile c'è anche solo che mi pestasse a sangue il nemico però non l'ho fatto perché erano in pochi credo di avergli disintegrato tutta l'armata forse sono rimasti un po' di lanceri perieci ma nulla di che ecco io mi chiedo perché ci sono i perieci in teoria i perieci non non andavano in guerra sono gli solo gli spartani spartani non i perieci nemmeno gli loti mi chiedo perché ci sono però forse gli loti perché gli serviva un po' di unità da tiro e siccome erano tipo delle merde in confronto agli spartani normali ma utilizzate pure il tiro adesso non lo so ok vinto e uccidere i prigionieri tanto muoviamoci andiamo anche a sparta andiamo possiamo subito iniziare l'attacco ma non lo so aspettiamo un po' aspettiamo un po' innanzitutto poi di tecnologia voglio ricercare quella di da sedio che mi permette di poi costruire tutte queste cose qui queste bonate che sono veramente fighe mettiamo in marcia forzata e iniziamo la battaglia mandiamo un assalto a sparta e in questa battaglia qui forse è il destino di ah il nemico esce a combattere in campo aperto ha anche una delle nuove possibilità che puoi fare di battaglia cioè quando il nemico ti attacca ti lancia un assalto puoi decidere tu in difesa se scontrarlo in campo aperto oppure scontrarlo dentro la città come sempre non capisco la scelta di non combattere in campo aperto però cioè sarebbe meglio combattere in città intanto qua c'è Sparta e inizia uno schieramento questo qua sarà la fine di Sparta intanto oh le unità sono messe di dietro a camperare camperone i picchieri li metto qui tipo questa formazione qui è solo una formazione provvisoria perché ovviamente sarò in movimento quindi tipo è solo una formazione per muovermi più velocemente qui e poi per poi dopo assistere tipo i miei uomini tanto voi i miei cavalieri io li metto qui poi il resto qui ok muoviamoci e velocizziamo un po' questo qua sarà la fine di Sparta i nostri rinforzi sono arrivati eccoli qui i rinforzi fatti di cavallerie cittadine a me solito vita però se camperano su questa collina qua sarà un po' dura batterli però vedo di fare quello che posso intanto che bella Sparta da lontano così che carina carinissima Sparta eh ok bene qua ho pliti tanti pliti che metterò così poi dopo metterò così i miei altri tizi poi dopo cavalleria la metto così ebbene ok ora visto che hanno così tanti così tanti arcieri vedo di fare subito una carica da tutti i lati qui oddio quanto odio queste cose ah beh togliamo tutte le formazioni ce lo so ecco tu metti tipo va bene ah ecco ok lasciamo stare ora quello che voglio fare mettere tutti i picchieri assieme dopo mettermi cos così no tu non sei un picchiere tu sei un picchiere e tu sei un picchiere e ok il resto delle unità lascio qui davanti tanto i miei arcieri quello che dovranno fare è attaccare a distanza tanto la mia cavalleria la metterò qui e tipo li imbottiglierò su questa collina anche se con questi opliti qui potrei in teoria anche attaccare ok picchieri i mando qua dietro cavalleria qua dietro i nostri uomini va dov'è che stanno già vacillando eh sì qua ci sono una c'è una bella carica di unità spartane picchieri opliti vabbè dobbiamo muoverci subito sono un po' confuso da questa battaglia che ci sono così tante unità da controllare io mi confondo abbastanza quando bisogna si bisogna controllare sostante unità quindi ti faccio così con le altre unità andiamo qua dietro a spaccare un po' il culo ma anche il nemico non se la sta passando benissimo mei arcieri lì voglio mandare tutti contro questo qui che sarebbe il generale nemico la battaglia sta volgendo in nostro favore vediamo se riusciamo a fare una carica alle spalle dai li stiamo tirando giù abbastanza in fretta gli altri picchieri tutti qui giù e lanciari tutti quanti questi qua boh vanno dove vogliono a me non importa tanto ispiriamo l'unità faccio la carica bestiale degli peus il nostro generale è sotto attacco bene ok abbiamo chiusi qua giù all'inizio è stato un po' un casino però dopo ho capito la tattica guardate qui che bolgia di spartani continuiamo ad andare avanti tanto però porrei tutta l'unità da tiro di smettere di sparare tanto questo lanciare i peus lo mando un po' ammazzare unità puri spartani mettevo mettevo la scita a massimo così tutte le unità prendono un po' di esperienza anche poveri spartani poveri spartani poverini po' abbiamo praticamente straminto non che sia una battaglia difficilissima però è stata figa cioè bottigliarli tutti lì sono qui stati abbastanza veloci anche se avevamo le picche boh quindi usciamo dalla battaglia vittoria decisiva e possiamo anche dire ciao ciao ad a sparta quindi abbiamo eliminato il nostro più grande nemico o anche alleato non so come chiamarlo al nemico al nemico ecco i nostri ovviamente la nostra cavalleria i peus ha fatto malissimo al nemico anche i nostri cavalieri cittadini soprattutto con quella carica alle spalle potentissima bene invece i nostri arcieri hanno fatto poco più che altro uccisioni collaterali ecco vinto 4 minuti di battaglia 5 anzi ok spartaggio occupiamo fazione distrutta sparta hai distrutto questa fazione non ero l'oltezza della tua potenza ahahah 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 boh eliminata qua mi è segnato un'altra grande battaglia boh strano non lo capisco va bene intanto qui muoviamoci un attimo spostiamoci nella macedonia ci sono più lite aspettando a più sparta qua dobbiamo modificare un po' gli edifici qua però c'è un campo di schermagliatore niente male quindi forse il mio campo di schermagliatore posso anche sostituirlo e anche a sparta di convertire in distesa erbosa che dà più cibo però non è lo stesso tipo di cibo ok ora dobbiamo guardare un attimo il mondo a pensare che cosa fare perché non so che cosa fare proprio i sardi comunque sono in guerra con qualcuno perché sembra che sono in guerra con i come si chiamano i macedi i seleucidi non lo so comunque adesso l'ellas la macedonia forse dovrei andare contro i triballi adesso e poi dopo magari prendere l'illiria e poi dopo spostarmi in asia i sardi sembrano molto potenti e i veneti hanno conquistato il nord Italia bene quindi direi forse conquistare prima la traccia andare poi dopo in illiria conquistare lì poi dopo magari possiamo pensare di fare qualcosa in dacia o in asia non lo so comunque ok sta andando molto bene tutto secondo i miei piani e questo mi piace ora reclutiamo l'unità di vizieri e una di opiti vediamo le unità che si possono reclutare dagli spartani in più bel tasti ma non vedo tutta sta differenza babbo ma non vedo sta differenza strana però va bene va bene bene torniamo se già deve emanare l'edito dati dell'ellas deve emanare l'edito stimolo commerciale e torniamo e torniamo a astride chi era già furia te nel generale credo si si gli do la capacità generale che riduce i costi a ruolamento eccetera eccetera bene il mondo un po' è cambiato è dall'inizio della partita se prima le fazioni dominanti erano la macedonia l'egitto e cartagine adesso ormai non ci sono più cambia in fretta la situazione mondiale adesso noi credo di essi credo almeno che l'atene sia diventata una delle potenze maggiori al mondo al momento forse se le uccidi ho qualche fazione lo sperduto nord però ne ha una strazona molto probabilmente oltre ai sardi se le uccidi siamo tra i più potenti molto bene ah i sardi non della sardegna questi sardi ovviamente dunque sparte in due anni di guerra annientata boh missione completata lì andus capit e ora mantenere 60 unità in tutto si vis pace in parabello si si fa la pace per la guerra ah se vuoi la pace preparati alla guerra si oh si oh mio dio non ci voglio entrare latino basta latino ok attento qui perché stai morendo di fame ah capitan guards ah qua se non ci sono dei bassi fobi tanto appella facciamo una popolis ellenica eh molto bene tanto qui direi di costruire un'officina che così ci dà l'opportunità di costruire delle cose lì delle armi di livello 1 possiamo anche costruire le baliste quindi si un'officina ad Atene conosce da un po' che non la cago va bene intanto commercio commerciamo con Roma vediamo se ci fanno commerciare e se le uccidi o se le uccidi se le uccidi se le uccidi vi offrò anche un po' di soldi per renderlo hey dai entra no arriva proprio ah non li va ah se le uccidi o se le uccidi se le uccidi non so come si dovrebbe pronunciare correttamente però chi fosse le uccidi mi piace tanto veneti viva grazie commerciale però tipo con offre un pagamento di centosottanta ma perché non vogliono proprio vabbè eh sardi nessuno vuole commerciare con noi non capisco il perché non lo so ci odiano molto brevemente un po' tutti comunque partiamo di nuovo con la costruzione ma intanto qualcosa sto ricercando torre mobile sì torre torna tutto 10.000 qua cosa posso fare fare un altro pilita un altro pilita e un arciere poi iniziamo a fare solo arcieri ma un una persona che fa parte di una di un'unità di opliti si dice oplita o qualcos'altro forse è sempre oplita tanto cartagine che è detenuta dai ribelli cartaginesi strano però che i ribelli non fondano le fazioni mi non mi piace tanto come scelta perché i ribelli alla fine sono stili verso tutti e non mi piace troppo eh i veneti hanno anche conquistato Siracusa i veneti faccio attenzione che forse stanno iniziando ad essere potenti forse anche prima di andare in Illyria posso pensare alla magna grecia andare contro Roma cartagonova è disintegrata beh logoramento capita tanto con questa unità qui ho paura di Deimos faccio marcia forzata e facciamo andare nel a nord contro questi qua non so come posso chiamarli questa tribù a nord intanto un po' di cavalleria tanto forse è meglio che inizi a reclutare un po' più a nord ok unità di questo poi un'altra unità di cavalleria cittadina tutto quanto se gli aiutanti aumentano si invia ma c'è da ogni popolazione incoraggiata bene 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 ok tutto sta andando perfetto tutto perfetto perfetto tanto la mia flotta dove è rimasta? ah ciao cosa facciamo con te non lo so muoviamoci forse qui non è una buona zona per reclutare forse nel mare di Apollonia Pella eccetera eccetera quindi prepariamoci abbiamo qualche fatto di un'aggressione con voi l'accordo commerciale io lo tolgo che così iniziano un po' più a addiarci ed è un bene dai ok intanto Roma continua a romeggiare sta andando bene ah gli arverni sono morti anche la maggior parte delle fazioni maggiori sono morte beh quasi tutte ammazzate da noi tipo le Piro Macedonia non è stata ammazzata da noi però abbiamo ammazzato coloro che hanno ammazzato Macedonia Spartania anche da noi l'Egitto mio dio è una delle fazioni più potenti al gioco di partenza un po' hanno perso in nulla voi se le Ucidi sono veramente tosti io oddio sono tosti tosti dunque la patch 3 di rom 2 inizia già ad essere un gioco completo perché prima vedo più rom come una beta anche se mi piace tantissimo rom mi piace tantissimo come gioco però bisogna anche dire che purtroppo molto sto che nel punto di vista di ottimizzazione eccetera eccetera si un acquedotto a pelle oppure possiamo fare ah un po' più di cibo si aggiungiamo il cibo si ok perché qua c'è due tempi di tempi di Zeus dovrei convertirli in qualcosa altro ok iniziamo a muoverci qui bene facciamo marcia forzata e iniziamo a dichiarare guerra ai tribali non chiedo agli RDA di entrare in guerra facciamo tutto solo tranquillo e iniziamo a mettere l'unità in posizione tipo più vicino possibile continuiamo l'assedio ok però questa attaglia qui la voglio fare la prossima puntata perché siamo quasi arrivati alla fine sarà una battaglia bella grande però dovrei vincere ci sono solo dei fedelissimi ma il giuramento che sono l'unità più sgrava del gioco oltre ai guerrieri traci però ci sentiamo alla prossima gente appunto da adesso tutto ci si rilasciamo con questa canzoncina che mi piace troppo ciao alla prossima grazie a tutti